volato sul ghiaccio prima, allora è meglio stare in piedi, sì? Bene, bene arrivati a tutti allora, grazie, non sappiamo mai, a sorpresa ci sono trafrane, nevi, ghiaccio, insidia e poi il Natale vicino, però è sempre bello regalarci questo momento dove l'unico intento è proprio l'ascolto della parola del Signore, non avete il foglietto? C'è, c'è, guarda, c'è, tira lì fuori, non c'è la, questo, c'è, Bene, allora, bene arrivati a tutti, c'è sempre anche qualcuno nuovo, qualcuno che, poveretti, siamo in zone sparse e fanno fatica ad arrivare, ma è sempre molto bello vivere questo regalo che il Signore ci fa con il dono della Sua parola. Ho pensato oggi che il sabato è prima del sabato del Natale, dove non faremo il ritiro, evidentemente, il 24, perché c'è la vigilia del Natale, poi c'è la messa alla sera, la messa di mezzanotte, ho pensato che fosse bello poterlo fare con serenità e tranquillità il Vangelo di domani, che è quello della Divina Maternità, cioè è il famosissimo Vangelo dell'Annunciazione. Ma l'opportunità che si dà quando noi facciamo scelte così, mi accorgo che è sempre nuova, un poco ci sorprende, perché c'è la possibilità pacata, dove non dobbiamo arrivare a concludere, a particolari conclusioni, no, ma vogliamo davvero lasciarci toccare dalla parola del Signore, aiutandoci a capirla fino in fondo, perché dopo questo genera preghiera, genera davvero la cordiale accoglienza di un dono che il Signore ci fa. Anche se il testo è molto noto, prima lo ascoltiamo, senza commento, e poi dopo, però sono rimasto io senza foglio adesso. Grazie. Soltanto leggendolo, a sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo, «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio». Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. allora Maria disse, «Ecco, sono la serva del Signore, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Credo davvero che l'atteggiamento è più immediato quando entri al di là del racconto che già conosciamo molto bene. È francamente un atteggiamento di stupore perché sarà questa l'opportunità bella di questa mattina. Potremmo cogliere alcune sfumature, alcuni silenzi, alcuni passaggi che aiutano a interiorizzare il dono della parola del Signore. Davvero, questo è trasparentemente nella liturgia ambrosiana. Oggi è la domenica, l'ultima domenica, è quella della divina maternità. Si respira un clima di vigilia, o meglio, un clima di veglia, non di vigilia. Veglia dello sguardo e veglia del cuore. Perché il sapore anche di questo Vangelo è trasparentemente di livello così. Non è un racconto che notifica, è qualcosa che dice «guarda, prova a guardarlo». E forse se lo guardi senti davvero che il cuore entra direttamente in una relazione profonda con la parola del Signore. Bene, in fondo è un testo di estrema sobrietà. Pochissime cose, tutte fondamentalmente particolari e comunque il contesto assolutamente marginale. Nazare è un piccolo paese e in quel contesto poi era proprio una cosa a parte. Nella Galilea una casa qualunque, una giovane donna, ma senza nessuna sottolineatura specifica. E qui, francamente, siamo già nel campo dello stupore. Ma se questo che viene detto è l'avvenimento decisivo della storia e di Dio, Dio che viene ad abitare la nostra terra, la nostra storia, la nostra vita, ma qui non c'è nessun segno di solennità, di preparazione, di comunicazione. Non ci sono testimoni, niente. Ecco, questo davvero non è una cosa la parte è marginale. Vuol dire che carica di profondità questo linguaggio semplice, umile, ma assolutamente vero e profondo da parte dell'angelo che parla con il nome di Dio e da parte di questa donna, Maria, giovane donna di Nazareth. Notiamo che poi addirittura il testo dice, addirittura non è un addirittura, ma perché forse sono un po' preso dalla sorpresa, quante volte l'ho predicato, l'ho letto, ma davvero dopo ne cogli sempre una. Ad esempio che dice al versetto 28, entrando da lei, non entrando nella casa, entrando da lei, c'è una tu per tu. Quindi il resto, la casa, com'era, il contesto, c'era qualcuno, con chi viveva, Maria? Niente, niente. La sobrietà nel modo più totale. Aperto la porta e parla con l'angelo. Entrando da lei, disse, è un incontro intenso. Seconda annotazione che faccio. La prima parola è rallegrati. Non temere. Due espressioni dell'angelo. Rallegrati è come dire, ho una cosa bella, ho una cosa gioiosa. Non temere. Ma come si fa a non temere in una situazione così? Non temere, ha detto, a Maria. E come fa a non temere? E questo davvero è il sorprendente percorso di questo momento che consente davvero di farci delle domande. Ma come è possibile permetterci di non temere? Nel futuro di Maria, nel progetto di Maria, c'era altro e lo sappiamo. Oramai erano orientati ad essere famiglia, marito e moglie, a cominciare il loro cammino. Come fai a non temere? Come possiamo permettercelo? È davvero, questa mi pare, una annotazione che è prezioso. Bloccare per ascoltarla. Il Natale è la festa di un Dio che ci raggiunge la dove sei e per quello che sei. Non chiede una cosa previa, un prestigio, una solennità, una comunicazione ampiamente diffusa. Niente. È la casa di Nazareth, c'è questa giovane ragazza e non temere. Con mio marito futuro con cui abbiamo già programmato il domani. Ecco, a me sembra che questa sia una cosa che incrementa in maniera davvero intensa quello che io chiamo come linea che attraversa questo testo, che io chiamo stupore. Ora, di fatto noi qui abbiamo anche le prime parole di Maria nel Vangelo. Nel Vangelo ne ha dette poche, pochissime. Non si può dire una donna, parla tanto. Se c'è una di cui non parlare, esattamente lei, semmai parla troppo poco. Ma, però, le prime parole le vogliamo davvero raccogliere. Anche perché... Anche perché dicono... Anche un livello di animo e di comunicazione che immediatamente è diventato di grande intensità. Lei credo che sia la persona la più sorpresa in assoluto. No? Ma in fondo è quello di permettersi una domanda. Ma questo come può avvenire? Questa è una domanda umanissima. Per una ragazza in una situazione così, a fronte di questo fatto, ma come può avvenire tutto questo? Anche questa profonda umanità dell'incontro, dove anche questa donna smarrita, questa ragazza giovanissima, però ha la libertà di dire ma com'è possibile? Com'è possibile? Io non conosco l'uomo. Lei ha il progetto del cammino con l'uomo che ama. Ma io non conosco l'uomo. I termini sono espliciti e evidenti nella semplicità di poter dire perché, vedi, lui ti sorprende, ma non di tarpa le ali. Il tuo sbigottimento glielo puoi dire, il tuo stupore, ma com'è possibile? E questo fa diventare di una umanità intensissima questa pagina, dove ognuno di noi si sente in un possibile a tu per tu con Dio. Anche perché tu vieni a fare un Natale così, a farlo con me, a farlo con noi, a farlo anche qua. Tu che sei il Signore? Ecco, questo clima di sorpresa, questo clima di quasi di sconcerto è davvero importante perché io credo che questo è il clima che davvero ti consente di far diventare un dono grande e una preghiera intensa questo Vangelo bellissimo del testo di Luca. Bene, nulla è impossibile a Dio. Guarda, Dio è fuori dagli schemi. Tu pensi di immaginarlo e di credere chi sia. È fuori dagli schemi. È un Dio che sorprende. E' un Dio che ti prende nettamente in contropiede. E allora, e allora davvero, tutto questo fa guadagnare intensità a questa pagina così scarna, così essenziale. Anche quando tu la immagini, non riesci davvero a fartene un'idea precisa. Anche quando sei nella Santa Casa di Loreto, che è una casa, dicono gli specialisti, ma specialisti seri, quindi è una delle cose, il come si è arrivato, questo è il miracolo, cioè è la cosa che, come si fa a dire, è arrivato, ma quello è fatto di materiale esattamente di quel contesto e di quegli anni. Quando avevo finito di predicare un corso di esercizi a Loreto per i preti, proprio fuori, fuori di un chilometro, subito mi avevano detto, guarda che l'ultima Eucaristia, Don Franco, andiamo a celebrarla nella Santa Casa. E io, era la prima volta che entravo nella Santa Casa, mica era grande così. Noi eravamo una quarantina circa, preti di tutta Italia, erano, sì, mi pare che erano corso per i preti, e quindi non potevamo neanche sederci, perché le sedie non ci stavano, no? E celebrare lì e dire, questa comunque non sappiamo, ma questa era la casa di Nazareth. E tu dici, e lui è venuto lì. La storia del mondo e della vita del mondo incomincia con un gesto così, davvero questa cosa ti scuote, nulla è impossibile a Dio, ma non perché ama sorprenderti, perché gli stai a cuore, non perché ama sorprenderti. Tant'è che, qual è la risposta di Maria? In fondo l'angelo aveva detto, saresti diventata, eh? Quindi, come dire, come qualcosa di straordinario che accade, quindi come una donna che riceve un conferimento estremamente importante e solene, lo riceve da Dio, e la sua risposta non usa il linguaggio della donna che si sente onorata. Sono la serva del Signore. L'angelo dice, tu sei e sarai una donna sopraesaltata. E lei risponde, si faccia di me secondo la tua parola. sono la serva del Signore. Notate lo sbilanciamento tra la solennità della dichiarazione dell'angelo e la risposta umile, commossa, intensissima di questa giovane ragazza. Sono la serva del Signore. E allora, anche queste prime parole di Maria del Vangelo, fondamentalmente ci bastano, no? Eh, qui come fai a non sentire la possibilità di un legame, la possibilità di una relazione intensa, perché non aveva nulla di particolare che potesse farla pretendere come una che avrebbe dovuto ricevere un dono grande. Ma niente, non c'era proprio nulla. E poi, quando? In che contesto? c'era un preavviso. Niente. Ecco, questa cosa, a me pare davvero che ha una forza di avvicinamento alla situazione reale di Maria in quel momento, è un avvicinamento reale a colui che ha annunciato. Ma tu sei così, Signore. Tu vieni così. Tu, la nostra terra, cominci ad abitarla in questo modo. Ecco, io penso che so stare su questi sentimenti, perché questo ti dicono che non ti basta sapere il racconto. Stauri già un dialogo orante con queste parole. Sei già in dialogo con il Signore. E questo a me pare davvero qualcosa di grande e di bello e di vero. Ora, l'importante è, ad un ingresso così, per imparare da lei, da Maria, è mi metto disponibile. Sono la serva del Signore. A questa parola si risponde, ci sono, mi consegno, si faccia di me, secondo la tua volontà. Dove tutto è così impoverito, anche raccontarlo diventa difficile, perché è fatto di pochissime sottolineature. È così impoverito, ma è esplosivamente ricco. Dice che se c'è una relazione diretta con il Signore, questo è il linguaggio, umile, semplice, casalingo, quotidiano. Questo è il linguaggio. Una parola che è sua è tu che ti prendi la libertà di fare una domanda onestissima e sincera, ma ti prendi questa libertà perché non ti senti tarpata da uno che aveva soltanto l'intento di sconvolgerti. Ti senti interpellata con il tuo nome, con la tua storia, con l'amore che aveva per Giuseppe, sul sogno che oramai coltivavano a distanza brevissima con quella che sarebbe stata la loro vita nuova. Ecco, sono sottolineature, io ve le dico perché confesso che anche per me mi hanno aiutato e mi aiutano moltissimo. Devi proprio fermare il tutto ma non lasciarti sfuggire neanche una virgola, neanche un silenzio, neanche un passaggio. Ci vuole proprio un senso di stupore di chi si mette in quella situazione e davvero riconosce che qui c'è qualcosa non solo che il Signore vuole regalarci, ma c'è qualcosa? È Lui! È Lui il Signore che ci sconcerta, è Lui! Dopo la parola detta all'angelo, mamma mia, che bellezza, che profondità, che storia! Ma Lui è uno che viene così, che si affaccia così, si affaccia così. E questo davvero, mi pare che ti dà un animo con cui entrare in preghiera e con cui riconoscere che il Natale, stiamo al di là di tutta la ritorica che c'è, ma il Natale è questo qua, è questo qua, non un'altra cosa. Ha scelto di venire ad abitare la quotidianità della nostra vita e della nostra storia. Il posto, umilissimo, marginale, senza nessuna notorietà, ad abitarla alla nostra terra, ha cominciato a farlo così. E allora, su questo punto davvero, ti accorgi che preso così di sorpresa, obiettivamente è che rimane solo una cosa, ci sto. Maria ha detto questo, ma anche uno che prega, dico, ci sto, Signore, a riconoscerti che tu sei uno così e che tu raggiungi me in questo momento, in questa forma totalmente semplice e scheletrica. Ecco, a me pare davvero che questo sia qualcosa di grande. Potremmo anche leggere quel Non angustiarti per nulla che domani nella seconda lettura della liturgia ci farà ascoltare Paolo che scrive ai filippesi Ma come fate a non angustiarmi? Pensate alle cose belle, positive E davvero, ha delle espressioni che sono proprio interessanti Positivo lo sguardo e il volto Quello che è vero Quello che è nobile Quello che è giusto Quello che è puro Quello che è amabile Quello che è onorato Ciò Che è virtù Ciò Che merita l'ode Questo sia oggetto dei vostri pensieri È l'unica volta che Paolo fa una sosta di questo tipo Di carattere esemplificativo Per dire Guarda Il superamento dello sbigottimento ce l'hai Perché impari i linguaggi veri della vita Quelli che creano relazione Quelli che aprono ad un dialogo Quello che fanno incontrare la bellezza e la possibilità dell'altro E questo a me pare davvero una forma per entrare Beh, nella liturgia di domani Che era domenica immediatamente prima del Natale Ma nella liturgia di domani Ma a questo punto credo davvero di poterlo dire con serenità Anche se non ho parlato con nessuno in questo momento È entrata dentro di noi questa cosa Come fai a non sentire che tu sei parte di un Vangelo così E per chi è venuto? E perché è venuto così? Ma chi è uno che entra e viene così? E allora che cosa restituisco a uno che viene così? Queste sono le domande che dopo via via vanno emergendo nel cuore E a questo punto mi è venuto un ultimo pensiero Poi dopo termino Mi è venuto un ultimo pensiero Quando appunto Gesù parlando dei momenti In questo caso addirittura capovolta La cosa in momento escatologico della fine di tutto Poi guardatevi di non credere a quelli che dicono Ecco viene qua, viene ora, i segni sono questi Non credeteci Verrà all'improvviso come un ladro Come un ladro Dai del ladro a Dio Un ladro A uno Che non ruba mai E che dona tutto E viene come un ladro Oppure ci vuol dire Guarda che ogni giorno della tua vita È potenzialmente un giorno di incontro e di grazia E allora non c'è bisogno di sapere Né la data né l'ora Io quando sento gli amici che dicono Le previsioni del tempo giustamente Bravi Così anche io che non guardo niente Vengo informato Alle nove e un quarto nevica Alle undici pioggia Io dico Ma vediamo Ma comunque un po' mi fa sorridere questa cosa No? E dico Meno male il Signore Che tu non ci mandi nessun preavviso Ci dici che la vita È talmente bello viverla bene Che è bello ogni giorno Questo è Vangelo Questo è Vangelo Questo è Vangelo E allora E allora dopo ti fermi qua Ti fermi qua Ecco Volevo solo dire questo Prima di finire la registrazione E dico Sabato non facciamo il ritiro È proprio il 24 La mattina Poi c'è la messa Poi penso che in tanti Poi è la messa alla sera Però E poi sono giorni davvero anche molto pieni Ecco Però Però Ci sono sempre delle cose opportune Avete visto Che c'è una tre giorni di fine anno Avete visto dai fogli No? Con delle possibilità Di sosta e di riflessione Proprio semplice Umile Senza pretesa Però Non vogliamo Finire unicamente Per Finire un anno No Ma anche Vogliamo finirlo Interrogandoci Sull'anno L'anno Che termina E interrogandoci Su di te Signore Che cosa ti aspetti Tu Da un anno Che mi regali E che mi regalerai Così pure Ecco E domani Oggi e domani È domenica Cosiddetta della casa È una cosa nuova Che abbiamo cominciato Da Da ottobre C'è la possibilità Di avere Una pausa Ogni mese Una pausa Dopo uno Prende il tempo Che può Qualcuno Appunto È già qua E Qualcuno Arriva Nel pomeriggio Prende il sabato E la domenica Qualcuno Prende Semplicemente La domenica O la domenica Mattina Quando c'è un momento Anche meditativo È Però Ecco Siamo molto all'inizio Ma non sono pentito Di aver avuto Questa idea Dopo L'ho condivisa Per cui Parlo a nome Meditanti L'ho condivisa Perché L'ho avuta In un momento Difficile Ero in ospedale Facevo le notti In bianco E allora Chiesto al signore Che mi desse Qualche pensiero Positivo Altrimenti Prende Ma perché Tanta gente Si è un po' Legata O affezionata A questa casa Perché È bello Sì è bello Guarda che giornata Oggi Ma certamente Ma non è questo Il motivo Il motivo Davvero È lì Proprio Ho cominciato A dare un nome Il nome Silenzio Il nome Preghiera Il nome Spiritualità Il nome Fraternità Il nome Accoglienza Il nome Possibilità Di condividere O di fare verità Sulla propria vita Su se stessi Oppure Perché Potremmo udire Parole di Vangelo Che ci aiutano Figure di Vangelo Domattina Avremo Francesco Tassisi Figura di Vangelo Ma non come Biografia del Santo Ma come Provocazione Che una vita così Dice Al tuo cammino Al tuo cammino Spirituale E allora Ecco È nato così La cosiddetta Domenica della Casa Siamo all'inizio Però sentitevi Tutti Tutti Ascoltati Perché a me pare Che questa Non è una proposta È primariamente Un ascolto Del perché Questa casa È diventata Familiare E questa Ha la ragione Non un'altra E allora Diamoci una mano Nella forma umida E semplice Appunto Com'è semplice E umida La casa Che non ha mai cose Chissà quali Ma Facciamolo Anche questo È importante Grazie Ci prendiamo Allora Dieci minuti Di sede